Tutto pronto a Teramo dove si gioca per la sfida Monterosi-Taranto. È la quinta giornata del campionato di Serie C. Ci sono in palio punti pesanti. Un tiro alto di Silipo fa partire il match in ritmi altissimi. Nei primi minuti su questo palo colpito dal Taranto arriva il gol di Fabbro, bravissimo a fiondarsi sulla ribattuta del montante e a depositare a porta sguarnita. È il gol del vantaggio del Taranto, ma reagisce subito il Monterosi che perviene al pareggio con il colpo di testa di Palazzino sul perfetto calcio di punizione battuto da Silipo 1-1. Ancora una volta la squadra di Romondini reagisce e potrebbe addirittura compiere il sorpasso, ma la conclusione di Frediani viene rispinta di piete dal portiere avversario. Il Taranto cerca di costruire con una serie di occasioni dove però è bravissimo il Monterosi a controllare e addirittura potrebbe colpire ancora con il tiro di Costantino rimpallato. Poi c'è questa conclusione di Calvano ben deviata in angolo da Mastrantonio, ma dal corner è Antonini a staccare più in alto di tutti, approfitta di una deviazione e riporta in vantaggio il Taranto proprio sul finire della prima frazione di gioco. Brutto colpo quindi per la squadra bianca-azzura, si va all'intervallo con il punteggio di 2-1 per il Taranto. Nel secondo tempo la squadra ospite viene fermata per un fuorigioco, poi inizia a macinare gioco il Monterosi che con intensità cerca il pareggio, più volte la difesa del Taranto riesce a fermarsi. Qui però la deviazione di Costantino impegna nuovamente il portiere avversario che poi è bravissimo a bloccare in due tempi questa successiva conclusione. Quando il Monterosi sembra vicino al pareggio subisce invece il gol dell'1-3 ad opera di Canuté che si porta sul fondo e segna da posizione defilata il gol del 3-1. Il Monterosi non ci sta, continua ad attaccare. Parlati, doppio dribbling, vince un impallo e poi scaramenta in rete. Giochi ancora riaperti. Siamo sul 3-2, mancano 18 minuti più recupero al termine dell'incontro. Bellissimo il destro di Parlati. Qui però esce fuori l'esperienza del Taranto Cianci, costringe Massantonio in un'altra parata. Poi è Cinaia, bravissimo a deviare questa incursione. Colpo di testa di Vano e parata dell'estremo difensore. Vano è entrato al posto di Costantino. Ancora palla in area e il Monterosi riesce ad allontanare. Qui invece Pironi con una bellissima chiusura a dire di no ancora una volta all'attaccante avversario. Ultima occasione per il Monterosi con il tiro di Ecuban debole. E nel finale, proprio al 95esimo, bel volo di Mastrantonio sul calcio di punizione di Romano. Non c'è più tempo, finisce 3-2 per il Taranto. Mi dispiace, comunque anche oggi, secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione e torniamo a casa con 0 punti. Manca qualcosa, manca qualcosa e non si riesce a capire cosa. Sì, sicuramente manca qualcosa perché adesso i punti incominciano ad essere pochi e c'è da lavorare. In ogni partita il Monterosi alterna dei buoni momenti, anche di 10 minuti, un quarto d'ora, a momenti negativi. Sì, diciamo almeno guardiamo questo lato positivo che abbiamo ogni volta un'ottima reazione dopo i gol presi. Però ti ho detto, sicuramente dalla prossima partita dovremo invertire il trend. Ecco, dalla prossima partita, secondo te Michele, quali potranno essere gli accorgimenti giusti per far ripartire il Monterosi? Questo non è compito mio, adesso vedremo in settimana con il mister. Ecco, parlando della tua prestazione, sicuramente alcune palle interessanti dove hai provato ad aiutare i compagni di squadra nell'andare al tiro e ci è mancato poco in alcune di queste circostanze. Sì, mi dispiace perché appunto abbiamo fatto un'ottima partita e ne abbiamo raccolto zero punti. Io oggi ho visto la mia squadra che ha fatto un'ottima prestazione, ho visto fino al fischio finale una squadra che ci ha sempre creduto. Sicuramente questo è un periodo tosto, difficile, però credo che la squadra sta lavorando bene, stiamo lavorando bene. Poi non stiamo raccogliendo quanto seminiamo, però io devo fare un applauso alla mia squadra perché comunque nelle difficoltà reagisce sempre. Abbiamo creato, abbiamo non subito parecchie, è una squadra forte, però credo che la prestazione veramente è una prestazione sopra alle righe, è una prestazione molto più importante delle altre secondo me. Oggi si è vista ancora un'anima, si è vista una squadra, si è vista una compagine che ci ha creduto fino alla fine. Poi non è venuto il risultato, abbiamo raccolto zero? Sì, è vero, però il campionato è ancora lungo, credo che prima o poi il calcio quello che ti toglie poi ti dà, quindi è normale che bisogna guardare gli errori, bisogna guardare tutte le difficoltà che abbiamo avuto anche oggi, però bisogna anche guardare molti lati positivi che sono la prestazione, sono le occasioni che abbiamo creato, sono le reazioni che abbiamo avuto quando siamo andati in difficoltà e soprattutto quando siamo andati in svantaggio, perché comunque alla fine abbiamo anche creato sul 3-2 delle palle-colle che potevamo concretizzare meglio, mi ricordo quella di Ekuban, una diretante. Però, ripeto, è un campionato tosto difficile, però io credo che stiamo crescendo di partita in partita.